Comunque noi abbiamo sentito che c'era un aereo che girava avanti e dietro, abbiamo messo tre mucche di fascine, un triangolo abbiamo fatto, poi abbiamo, che ci doveva essere un triangolo, sapevamo la parola d'ordine, abbiamo incendiato e ora l'aereo girava, perché poi l'aereo non è come una macchina che può girare in poco, ma gira anche per un giro di chilometri. Loro quando hanno visto che noi, che c'era questo triangolo, hanno lanciato i paracaduti e faccio un lancio molto interessante, dopo i moderni sono venuti da noi a reclamare che volevano loro le armi, noi abbiamo divisi poche parole, perché poi ero 130-140 mitra, noi eravamo lì, allora non più di una quarantina o cinquanta, perché noi avevamo poche più, poche parole, poi da lì dopo sono proseguiti i lanci.